ciao ragazzi allora dopo averci dormito su quindi buona domenica a tutti ho deciso di fare delle pagelle un po diverse dal solito perché quello che mi importa veramente oggi non è tanto il voto ai calciatori per la prova di ieri ma cercare di analizzare quello che sta accadendo in generale quindi non riferimento alla partita di ieri per capire come migliorare poi in futuro perché lo torno a dire ancora una volta ieri non abbiamo fatto nemmeno una partita tremenda e se perdi anche quando non fai delle partite tremende allora due domande te le devi fare attenzione non è che abbiamo giocato bene lo torno a dire perché questa cosa l'ho detto anche nel video a caldo post partita non abbiamo giocato bene perché per giocare bene per quanto mi riguarda deve avere tre quattro cinque sei sette dieci occasioni di gol pulite e noi non le abbiamo avute perché noi stiamo parlando di una partita non tremenda basandoci sul fatto che abbiamo fatto una bella azione per chiesa una bella azione per quadrato una bella azione per mccanny e poi ti rimporta la traversa di ribala e rabbiò che la mette all'angolino con musso che la tocca quindi due tiri in porta creando cinque occasioni con due tiri in porta due tiri in porta tra l'altro la traversa non è nemmeno considerata tale al 94esimo c'è one football qui sotto in descrizione scaricatelo scaricate one football perché dobbiamo dare un occhio alle altre adesso dobbiamo dare un occhio al verona all'empoli al torino la sassuola la sampdoria perché vengono a prenderci più che guardare in alto in questo momento paradossalmente dobbiamo guardare in basso perché se è vero come è vero che oggi i tifosi vittini sono preoccupati di andare in champions occhio è a continuare così occhio davvero perché il calcio non è scontato non ti regala niente nessuno solo perché ti chiami juve one football gratis usate in descrizione parto da cesni sei che cosa gli puoi dire non ha fatto parata ha preso un gol che non è palesemente colpa sua sei portiere che assolutamente non ha colpe anzi qua apro una parentesi ha dei meriti delle due perché lui quadrado delit bonucci e di bala sono stati gli unici cinque giocatori a venire a salutare la curva alla fine della partita perché quando ci vince è facile andare a saltellare sotto la curva e esultare tutti per mano ma quando si perde la faccia va messa e questi cinque ce l'hanno messa poi magari mckenny chiesa chiellini tutte queste altre persone che non erano in campo alla fine della partita potevano andarci pure loro ci sarebbero andati pure loro non lo so ad oggi so che ci sono andati questi cinque tutti gli altri che hanno giocato e sono andati dentro due domandine perché si sta giocando per la juventus onorare la maglia della juventus e rispettare anche chi viene a vedere la juventus in queste situazioni e vede a vedere degli spettacoli del genere in cui ancora una volta torna a casa con zero punti zero punti quindi scesni ok per questa cosa qua insieme agli altri quattro questa è una cosa che dovevo dire non me la tengo dentro quadrado e alexandro 5 perché se dobbiamo fare la differenza sulle fasce e questi sono i risultati campacavallo che l'erba cresce perché non siamo mai pericolosi sulle fasce dobbiamo sfruttare le fasce gli esteri sono nostro punto forte eccoci qua delit 5 impreciso ieri non era serata ha sbagliato diversi passaggi poi fa anche un po fatica a salire sul gol di zappata non è la sua serata 5 bonucci 6 ci prova già di più anche palla a terra prova delle imbucate però ragazzi se il nostro fuco del gioco diventa il difensore centrale anche qua campacavallo locatelli 6 perché comunque la grinta locatelli ce la mette anche un po di geometria però sembra sempre da solo in mezzo a niente rabbio 5 e mezzo al merito di creare l'occasione da gol più pericolosa della partita per tutto il resto della gara dov'era chissà e stavolta non ha fatto nemmeno l'estero sinistro perché ha fatto la mezzala il suo ruolo ragazzi ci sono dei giocatori che sono impalpabili e mckenny 6 un altro di quelli che lotta ci mette della grinta ci mette della voglia poi si spacca anche quindi nel momento in cui mckenny praticamente da solo ci aveva cambiato il volto al centro campo ce lo stava tenendo su e comunque con risultati di questo livello si fa pure male chiesa 5 non puoi sbagliarmi quell'occasione l'unica occasione pulita che abbiamo nella gara ne abbiamo poche federico se ci dobbiamo metterci in testa che bisogna che la fai te la differenza te e di bala perché sennò qui mezzo 5 e poi si spacca anche lui gioca solo un tempo l'ora più buia di bala 5 e mezzo perché quello che ci mette sempre più voglia sempre di più però non si traduce niente perché anche qua tiri veri di di bala due scorreggine a un certo punto uno che canna completamente e poi la traversa al 95esimo non riesco a connettermi alexa è un po' poco alexa quello che sta facendo anche di bala in questo momento 5 alvaro morata perché non parte nemmeno male e poi è sempre lì lì da solo nel mezzo sbaglia pure il passaggio che che fa nascere il gol di zapata con l'assist e la bella verticalizzazione di gym city allora alvaro inizia a essere un problema così è 5 bernardeschi che gli do 6 perché entrare in una squadra che viene continuamente sballottata un po' qua un po' la bernardeschi prima entra per fare esterno a destra poi gli fanno fare l'esterno sinistro poi lo rimettono a destra poi la mezzala poi il trequartista che fatica poveraccio anche lui è quelli che sono entrati guarda veramente non mi sento di punirli sei a tutte e due e 5 ad allegri e non su questa specifica partita lì sufficienza grave perché ripeto ieri almeno si è provato a fare qualcosa il problema di fondo max è che noi stiamo continuando a giocare senza sapere davvero come andare a fare gol perché io non ho più idea di come possa fare gol questa juve se non sull'episodio se non sul calcio piazzato se non sull'errore degli altri non c'è modo di fare gol perché non davvero e allegri le ha sempre preparate così le partite le ha sempre preparate così ma quando c'è una squadra che funziona e va e va il problema è che abbiamo una squadra che non funziona ieri in conferenza stampa gli ho sentito dire per la prima volta che questa rosa della juventus non è da primo posto ma che dovrebbe entrare nelle prime quattro e quando l'allenatore della juventus dice una roba del genere inizia a diventare pesante però facciamo un passo indietro facciamo un esamino di coscienza tutti perché è qua che bisogna migliorare perché nel calcio si vince si perde tutti insieme per quello mi dà fastidio vedere cinque giocatori sotto la curva ma tutti gli altri dove sono ma dove sono e quando si vince tutti tutti bravi tutti bravi quando si perde no quando si perde no perché in questo momento buio buissimo in cui davvero a me non importa non vincere perché ci sta che ci siano degli anni in cui non vinci ci sono anche gli altri sono valori dello sport problema è come avviene la non vittoria come avviene la non vittoria perché da tre quattro anni a questa parte la squadra si sgretola dal niente sono dei momenti in cui va bene poi si sgretola dal nulla ma com'è possibile sta cosa oh ma stiamo scherzando stiamo dicendo davvero prima con allegri poi con sarri poi con pirlo ancora con allegri ma cosa vuol dire ma cosa vuol dire non c'è gruppo vi state sul cassa vicenda perché in questo momento tutto in discussione è da andrea agnelli fino al magazziniere che mette le maglie sulla panchina quando si dan cambiare l'ho detto l'altro giorno chi sente di non poter dar più niente a questa juventus che si prenda su grazie di tutto quello che è stato ma basta perché bisogna essere uomini nelle difficoltà e ragazzi perché qui c'è gente che non è più all'altezza palesemente non è più all'altezza è il grande rimprovero che faccio ad allegri è questo in questo momento non aver dato un'identità negli ultimi metri perché va bene che lasci libertà ai giocatori quando c'è quelli forti e quando c'è quelli meno forti cosa facciamo perché in questo momento allegri è palesemente insufficiente sta facendo molto peggio di pirlo molto peggio di sarri che è vero che abbiamo cristiano ronaldo e questo è un punto adesso ci arriviamo questi sono i giocatori che hanno giocato più di 600 minuti bonucci scesni locatelli alexandro di danilo morata chiesa quadrado mckenny rabbio benacur di bala bernardeschi quelli che hanno giocato meno di 600 minuti sono chiellini culuzeschi de sciglio che pellegrini per in artur ramsey rugani caio e pinsoglio ora io voglio dire fatemi dire questa cosa pellegrini perché non gioca al posto di alexandro in questo momento perché alexandro non mi pare che stia facendo delle belle prestazioni almeno facciamole fare brutte anche a uno che può crescere e può essere un domani perché alexandro ha finito il suo ciclo a juventus e non da quest'anno da un pezzo eppure lì ancora lì e ha sempre giocato perché non c'era alternativa e sto giro perché gioca per riconoscenza per simpatia perché veramente giocatori impresentabili a questi livelli adesso alexandro dopo un inizio fatto bene e ve lo ricorderete che ne parlavamo qua adesso impresentabile perché non gioca pellegrini boh perché non gioca artur perché non gioca mai mai neanche un minuto dal primo minuto io mi ero dato una risposta che era quella del ragionamento che fa allegri ma io adesso la cestino io questa la cestino perché non gioca mai artur è più scarso di rabbiò sarà più scarso di rabbiò ma perché non ci proviamo e poi mi fa ridere che allegri al club l'anno scorso dice eh sì perché io arrivo analizzo i giocatori poi alla fine faccio giocare quelli più forti mettono a parte quelli più scarsi sono questi qua quelli più forti quelli che stiamo vedendo titolare da qualche partita questa parte perché secondo me allegri fino adesso non c'è ancora capito niente secondo me allegri non c'è ancora capito niente e forse anche difficile capirci qualcosa con questa rosa però bisogna dare qualcosa di più eh e perché non gioca kuzeschi a sto punto e ken e cajorge perché davanti non funzioniamo e allora perché continuiamo a schierare sempre gli stessi attaccanti vi do un dato la juventus ha segnato 18 gol in campionato 18 gol in 14 partite meglio di noi sotto di noi hanno fatto l'Elas Verona con 28 l'Empoli con 21 ok il Bologna con 19 e una partita in meno il Torino ne ha fatti 17 e ha una partita in meno il Sassuolo una partita in meno ne ha fatti 19 la Sampdoria ne ha fatti 20 ne ha fatto peggio il Venezia vabbè allora posto ha fatto 16 gol udinese con una partita in meno 15 gol lo Spezia con una partita in meno 17 gol il Genoa con una partita in meno 16 gol il Cagliari e 11 la Salernitana le ultime tre in classifica da zona retrocessione siamo palesemente meglio della Salernitana oggi il Genoa può recuperarci e il Cagliari ne ha fatti solo due in meno di noi le ultime tre squadre di Saria e di cosa stiamo parlando ma di cosa stiamo parlando di cosa diavolo stiamo parlando questa cosa non è normale e adesso è vero che Alvaro Morata poveraccio non segna in campionato dal 19 9 21 nella sfida contro il Milan ha fatto due gol Morata in campionato Milan e Napoli tutte le altre niente dopo aver giocato è da quella partita col Milan ha giocato 31 minuti con lo Spezia 82 con la Samp 19 con la Roma 90 con l'Inter 63 con il Sassuolo 90 col Verona 88 con la Fiorentina 74 con la Lazio e con l'Atalanta ieri non mi ricordo quanti ne ha giocati ne ha giocati di minuti e Morata da quei due gol lì e poi in Champions sono fatti altri due uno col Malmo e uno con lo Zenit quindi quattro gol in una marea di partite in 16 partite per Morata in 1090 minuti che significa un gol ogni 272 minuti Dzeko fa un gol ogni 126 minuti Lautaro ogni 195 Correa ogni 102 Ibra ogni 89 Giroud ogni 187 Zapata ogni 123 Muriel ogni 121 Ossimen ogni 113 Mertens ogni 153 Immobile ogni 100 Tammi Abrams ogni 200 Simeone ogni 89 Vlaovic ogni 103 e mi tocca sentire tifosi alla Roma che Abram non segna mai e segna ogni 200 minuti del peggiore della lista degli attaccanti che vi ho elencato Morata ogni 272 minuti quindi ci mette 72 minuti in più per fare gol rispetto all'attaccante alla Roma che non segna mai allora Morata e allora Morata e ribadisco non è un attacco ad Alvaro Morata perché diavolo lo dico ancora una volta non è normale che gli facciano fare questa roba qua ad Alvaro Morata e allora vorrei chiedere a Allegri ma non ti sei accorto perché ieri ce l'ha ribadito ancora una volta che Morata così gli fai più male che bene è più danno che utile e poi lo dovrebbe conoscere abbastanza bene Morata e anche lì al club è stato lucidissimo l'anno scorso Allegri nel dirti che Alvaro Morata non è un giocatore da competizioni sul lungo lo sa e minchia se lo sa certo che lo sa e però continuiamo così continuiamo aver fatto 18 gol da media zona retrocessione in 14 partite vediamo così però voglio darvi anche un dato perché in questo momento ribadisco Allegri del colpe ne ha e sono grandi perché il rischio esonero dovrebbe esserci una situazione normale in una situazione normale questo è il rischio esonero poi il fatto che prenda 7 8 milioni quelli che sono all'anno impedisce in questo momento la Juventus di valutarla esonero perché dovresti pagargli anche tutto il resto dello stipendio e come cacchio fai che c'è le pezze al culo punto di domanda e qua allora forse bisognava farci un pensierino prima di fare 4 anni ad Allegri a 8 milioni all'anno pensando di metterlo dentro una prigione dorata che ti impedisce di toccare allenatore se le cose van male e ribadisco è colpa di tutti quando le cose van male non è solo l'allenatore ma è anche l'allenatore perché quelli che mi dicono che è tutta colpa di Allegri io li prenderei e li darei delle sberle ma quelli che arrivano e mi dicono Allegri non ha nessuna colpa farei lo stesso perché non è vero che ha tutta colpa lui non è vero che non ha colpa lui di cosa stiamo parlando ma ci sono delle cose che sono palesi sono evidenti sono delle altre che davvero bisogna farsi due domande sul livello della rosa di questa squadra e dato che adesso siamo nel periodo in cui è perché abbiamo cacciato Pirlo e io le capisco quelle cose perché giustamente uno dice devo pagare Allegri di più tanto di più per andare peggio ricordiamoci sempre che non c'è Cristiano Ronaldo e ora vi do questo dato perché vi metto degli screen di un video che ho portato l'anno scorso partite da Juventus con CR7 in serie A 16 gol fatti 36 con una media di 2.25 partita senza CR7 3 partite 3 gol fatti media di una partita in Champions 4 partite senza Ronaldo 12 gol fatti media di 3 gol a partita senza CR7 2 gol fatti media di una partita è impatta tanto è avercelo e non avercelo non dico Cristiano Ronaldo perché lì siamo a dei livelli alti ma il giocatore che ti deve far gol poi in questo momento stiamo giocando in un modo che anche con Cristiano Ronaldo c'è davvero l'idea quella di fargli fare l'attaccante spalla alla porta questo si autolicenziava si pagava la clausola di tasca sua diceva vado via perché non era questo sicuramente il modo di far giocare Cristiano Ronaldo però Max cose che sono andate bene per tanti anni e lo sai sono stato prestato uno che non ti ha mai rotti i coglioni di come giocavi l'importante era l'efficacia però è che adesso non stiamo più facendo non siamo neanche più efficaci non è che non siamo efficaci siamo nulli sarebbe ora di iniziare a preparare un modo per esaltare le caratteristiche degli attaccanti che abbiamo a disposizione questo modo non funziona con nessuno attaccante bene cambiamo modo di giocare oh ma il calcio è bello perché è una marea infinita di vie di giocare a calcio non ce n'è una sola che ti fa vincere non ce n'è una sola che ti fa il risultato non ce n'è una sola che ti fa far gol e beh non possiamo non fare gol mai oh ma di cosa stiamo parlando e poi una cosa che voglio dire 18 gol fatti in 14 partite 16 subiti in 14 partite che se guardi sei anche quasi in linea con tutti gli altri gol che hanno subito anche le altre il punto principale è uno che solitamente le Juventus di Allegri parte dalle solidità difensive e quindi una squadra che mi parte per essere maggiormente efficace nel non subire gol non può subirmi gol come le altre e segnarmi meno delle altre perché se noi abbiamo fatti 18 il Napoli ne ha fatti 26 il Milan ne ha fatti 29 l'Inter ne ha fatti 34 l'Atalanta ne ha fatti 28 la Roma 23 che hanno quello che non insegna mai l'Alazio 25 la Fiorentina 21 è giusto che siamo lì in quella posizione all'ottavo posto probabilmente no potremmo essere anche più giù e nessuno dovrebbe dire niente e nessuno dovrebbe dire niente perché quando vincevamo 1 a 0 era il periodo in cui dicevamo sì ok ci portiamo a casa il risultato però ragazzi occhio occhio perché questo non può essere una risoluzione definitiva al problema e adesso non è che c'è un problema ci sono mille problemi e allora ancora una volta mi chiedo perché questa squadra scoppia con qualsiasi allenatore in panchina arriva un certo punto che scoppia da qua tra questa parte scoppia perché forse perché nessuno è disposto a crederci fino in fondo a dar tutto la maglia e la fotografia perfetta sono 5 giocatori su 30 25 che sono in rosa che vanno a salutare la curva può essere è dall'altra parte ma un allenatore max esperto come sei vincente come sei che guadagni così tanto ma è ben possibile che in cinque mesi non siamo ancora arrivati a un modulo una formazione titolare capire come fare gol e davvero a un certo punto dire ma quelli che hanno rotto i coglioni in panchina ci sono delle altre persone che potrei provare che sono anche più giovani e che possono creare valore alla squadra dato che allegri è stato preso per questo lo dice la presentazione iniziale sono stato preso per dare valore alla squadra per dare valore alla squadra creare valore per la società è impossibile che guardino sempre quegli altri bene che sono scarsi saranno scarsi non saranno pronti va bene però almeno perdiamo con della gente che potrebbe un domani essere ancora da juve perché ci sono dei giocatori che da juve non lo sono più non lo sono più da tempo e non vengo neanche a salutare la curva fine partita e allora che cosa ci state a fare lì davvero tutti in discussione da agnelli allegri ai giocatori a nedved ai magazzinieri alla preparazione atletica al social media manager chiunque tutti i tesserati della juventus devono farsi insieme di coscienza tutti e poi mi fa ridere qua rido per concludere il video perché c'è della gente che mi dice che io sono pagato dalla juventus per non criticare mai io io sono pagato proprio per non criticare mai eh già è sì infatti magari